I don't see Ben trovati a tutti. Dopo la Pasqua, dopo aver dato voce a tante situazioni di persone vicine e lontane a noi, vi avevamo annunciato che il 25 aprile, anniversario della Liberazione, Festa Nazionale, c'era quel grande raduno all'Arena di Pace, Arena di Disarmo e Pace, che ha visto una presenza di circa 13.000 persone con delle proposte concrete, con un no alla guerra, con un no agli F-35 della nostra zona, ricordandoci anche con quei soldi quante cose per la vita delle persone si potrebbero fare. Ma non ne parliamo questa settimana, ne parliamo magari la settimana prossima con Don Angelo, così come portando i suoi saluti. Don Angelo è stato in questi giorni in Armenia e ha fatto alcune interviste ricordando proprio il genocidio degli armeni, ma anche di questo non parliamo in questa puntata, rinviandovi alla settimana prossima. E invece oggi, come vedete siamo fuori dai nostri studi, siamo esattamente a Crusinallo, Omenia, con alcune persone qui vicino a me che poi vi presento, perché come già avvenuto in Ossola e poi anche a Verbagna, ne abbiamo già parlato l'altra settimana, anche qui sono arrivati, mi sembra, 30 persone, 30 profughi partiti da alcuni paesi dell'Africa, sbarcati sulle nostre coste e mandati qui nel nostro territorio proprio in questi giorni. Accanto a me c'è il sindaco di Omenia, dottoressa Mellano. Prima di tutto diciamo che sono 30 ragazzi in realtà, 30 giovani uomini, ma veramente giovani, che provengono per la maggior parte dal Mali, qualcuno dal Senegal, uno dalla Guinea, uno dalla Sierra Leone, cioè comunque paesi del Centrafrica. Sono ragazzi che evidentemente hanno alle spalle dei vissuti non felici, tali per cui vale la pena di allontanarsi da casa propria, anche con un viaggio molto avventuroso e che credo per tutti loro sia durato mesi. Credo che chi di loro viaggia da meno tempo, viaggia da due, tre mesi, ma molti da molto di più. Qualcuno ci ha detto di essersi allontanato da casa sua due anni fa. Sono tutti ragazzi sani, sono anche ragazzi cortesi, educati, che rispettano le regole che gli abbiamo chiesto di rispettare, non stanno dando nessunissimo problema. Sono arrivati solo molto stanchi, molto stanchi e anche un po' confusi, un po' sbalestrati da questa realtà per loro così strana dove si sono trovati a vivere. Noi ci eravamo preparati prima perché la cosa era nell'aria, era nell'aria ovviamente per qualunque persona di buon senso. Quando leggi sui giornali che dalle coste dell'Africa si stanno muovendo persone, nel numero che i giornali ci dichiaravano, era chiaro che prima o poi un paese civile si deve organizzare per dare a queste persone almeno una prima accoglienza. E poi eravamo in preallarme proprio esplicito, attivato dalla Prefettura, oramai da un bel po' di giorni. Quando nella sera di giovedì, era 24, comunque la sera del 24, è arrivata la telefonata dalla Prefettura che ci ha comunicato l'arrivo per il giorno dopo, in realtà qui era tutto pronto. avevamo individuato questa struttura che è un edificio di proprietà del Comune, nata per essere scuola elementare, ma attualmente non usata. Avevamo fatto alcuni piccoli lavori di adeguamento, sostanzialmente abbiamo creato delle docce che non c'erano in precedenza e abbiamo preso tutti i contatti necessari per il cibo, per tutto quanto poteva servire. L'ASL per parte sua ha un'unità di crisi attivata che ha fatto la sua parte. Questi ragazzi sono arrivati già visitati, identificati dal centro di Pozzallo. Comunque qua sono stati rivisitati proprio per una forma di cautela e sono appunto tutti sani. È garantita comunque la presenza medica, i medici di guardia medica sono passati in questi giorni, credo, uno o due volte al giorno, quindi hanno anche monitorato qualcuno che poteva avere qualche minimo disturbo, qualche stupidaggine. La gestione globale è stata affidata al Consorzio dei Servizi Socioassistenziali, al responsabile del dottor Barbaglia, il direttore del Consorzio, che ovviamente ha messo a disposizione le sue competenze, le sue capacità, ma anche il personale, le OS del Consorzio, che sono state con noi fin dal primo momento per dare proprio una mano, per dire, verificare che questi ragazzi si facessero la doccia, che non avessero bisogno di aiuto, gli hanno fatto vedere dove erano i letti, dove trovavano gli occorrenti per la toilette. Diciamo che in questo senso è anche una gran bella avventura. La stiamo facendo insieme quando le cose di questo genere sono fatte insieme da più persone che collaborano per il raggiungimento di un fine. È una bella cosa. Sì, e per dare voce ai servizi sociali, qui vicino a me Laura Frattini, lei rappresenta anche tutte le sue colleghe e il servizio in cui lavora. Che clima c'è qui? Cosa ci vuoi dire di questa situazione che il Sindaco un po' ci ha inquadrato? Qual è l'impatto anche umano con queste persone? L'impatto è stato molto positivo. Noi OS ci siamo dette subito disponibili quando ci hanno chiesto di avventurarci in questa grossa esperienza per mettere a disposizione la nostra professionalità, le nostre capacità, la nostra umanità. Come ha detto il Sindaco, noi accogliamo, diamo le cose di prima necessità per fare la doccia, per i pasti, anche se nel giro di pochi giorni questi ragazzi, essendo anche molto giovani, hanno capito al volo e si autoaiutano. Insomma, noi siamo una presenza di sostegno. Personalmente posso dire che questa esperienza è molto positiva e aggiungo che c'è anche una grossa presenza del volontariato della città e questo è estremamente positivo perché ti dà il senso proprio di una comunità che risponde e risponde molto bene. Sì, brava, grazie. Credo che quello che conta siano i fatti più che le parole spiegate a Gioscia che è anche una figura istituzionale ma lo intervistiamo anche come rappresentante di un mondo di base, di volontariato, eccetera. Com'è la mobilitazione? C'è attenzione? Poi faremo anche qualche domanda un po' alla luce dei giorni passati. Innanzitutto ribadisco quanto diceva il Sindaco. Questa struttura di accoglienza e tutti i servizi che mettiamo a disposizione di questi 30 richiedenti asile sono possibili innanzitutto grazie al Consorzio dei Servizi Socioassistenziali all'Asla, eccetera. In questa organizzazione ha un ruolo fondamentale la rete delle associazioni di volontariato delle parrocchie, delle organizzazioni sindacali e solidaristiche che hanno reso possibile tutto questo. Noi in questi giorni ci siamo ritrovati davvero a poter contare dalle piccole alle grandi cose dei piccoli e grandi problemi sul supporto di tantissimi cittadini omenesi che fanno parte di queste associazioni ma anche di tantissimi cittadini che pur non facendo parte di queste associazioni sono venuti a chiederci se avevamo bisogno, di cosa avevamo bisogno e mettevano a servizio la loro disponibilità sia di tempo che di saperi per dare a queste persone un'accoglienza la più degna possibile. Mi sembra che venga fuori un quadro positivo nella tragedia, nel dramma di queste persone che scappano non sono semplici migranti ma si possono identificare davvero come profughi o richiedenti asilo forse sarebbe il caso e me ne faccio carico io di ricordare a chi magari dice questi vengono, stiano a casa loro siamo invasi l'Italia ha a livello numerico una presenza di stranieri molto molto più bassa di tante altre nazioni europee l'Italia ha anche grosse responsabilità di guerre esportate dalla faccetta nera Bellabissina alla Libia di non molto tempo fa ed è tra i primi esportatori di armi proprio anche in Africa e lo diciamo anche chiaramente quando qualcuno dice stiano a casa loro ci chiediamo come mai qualcuno che dice così poi si è andato a commerciare diamanti che arrivano proprio da quella terra non mi sembra un'operazione pulita allora mi sembra che da Omenia invece arrivi un messaggio positivo il sindaco prima sottolineava per più di una volta che erano sani perché è partita anche la polemica di tutte queste cose qui non la mettiamo giù spessa ma credo che sia da sottolineare come il bene vince il male se la vogliamo mettere in termini un po' etici ma comunque che la solidarietà e il rispetto alla persona è più forte magari di qualche grido sparuto di chi invoca invece altre cose Dondino Campiotti che era ospite negli studi di VCO la settimana scorsa con il direttore De Paoli di fronte a questi commenti diceva raglio d'asino non sale in cielo cosa dice il sindaco? condivide questa cosa e andiamo avanti costruendo in positivo assolutamente sì l'ho anche già detto in altre occasioni che raglio d'asino non sale in cielo noi andiamo avanti quindi Dondino ha copiato da lei sì no 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 sono io che copio da lui ma lo dicevo già prima lo diceva anche la mia mamma assolutamente guai se ci fermassimo effettivamente credo giustamente tu dicevi l'Italia è un grande esportatore di armi non siamo gli unici non è che gli altri paesi europei abbiano qualche titolo per chiamarsi fuori da questa avventura c'è bisogno che l'Europa decida a fare il mestiere suo se riteniamo che essere europei abbiano qualche significato forse è il caso che lo dimostriamo certo senti Aliosha tu che hai magari il quadro a chi ci vede e dice ma guarda che bravi è Omenia che fanno cose con giudizio qualche anno fa avevamo letto che per risolvere il problema dei Rom ospiti abusivi in un casello ferroviario il problema è stato risolto abbattendo il casello qui si cammina un po' diversamente chi ci vede dice e io cosa posso fare? innanzitutto chiunque abbia intenzione di aiutarci può rivolgersi al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socioassistenziali a cui fa capo tutta la rete di aiuto supporto e solidarietà anche dei volontari dare la propria disponibilità in termini di tempo quindi per aiutare questi ragazzi a socializzare a capire meglio in che contesto sono oggi e anche a mettere a valore a mettere a servizio le competenze i saperi che le persone che vogliono dare una mano hanno per esempio adesso stiamo attivando un corso di lingua italiana per permettergli di comunicare ci sono tutta una serie di momenti anche aggregativi e di inserimento nella città di cui si stanno facendo carico diverse associazioni ma che nulla toglie possono come dire godere dell'aiuto anche di altri cittadini queste persone non sono in stato di arresto cioè se le vediamo girare per Omenia nessuno gridi tu t'appelles Boubacar e tu vienes di Mali ti dianne pofana tu vienes di Mali tutti dal Mali anche ton nome io mi chiamo Karim io vieno di Mali io mi chiamo Sanji Baradji io vieno di Mali e tu vienes di Mali è solo un mot come se è Omenia good c'è bien una cosa che mi ha anche molto colpita in questa accoglienza è la possibilità che è stata data a questi ragazzi di poter comunicare a casa e ho visto ragazzi che hanno appena potuto hanno telefonato per rassicurare le mamme le sorelle i papà le mogli questo è importantissimo un lato umano fondamentale insomma questa è anche l'accoglienza il tener conto che ci sono anche questi risvolti umani sentimentali in questi ragazzi ecco e con questo risvolto Don Tonino Bello diceva quando devi ospitare qualcuno non basta dargli il letto bisogna anche dargli la buonanotte noi non ci diamo la buonanotte ma ci diamo la rivederci alla settimana prossima magari anche con Don Angelo where are we what the hell is it